Pronti con sta pefana che vola? Pronti con la pefana che vola? La facciamo volare già? Beh, mettiamo la musica adatta perché sta per arrivare a pefana 2015! Un applauso! Che quanto siete mossi! Un applauso più forte! Dai Giuseppe, spacca! Si sta tirando su le calze, un po' che problema tecnico, ma adesso parti alla pefana! Dai, dai! E' partita la pefana! C'è un po' di raffiche di vento contrario, ma ce la farà! Dai che si tosta, bellana! E' partita la pefana! E' partita la pefana! E' partita la pefana! Guarda che cosa fa! Ma troppo brutta sta pefana! E' partita la pefana! E' partita la pefana! Ah, sta perdendo a comando! E' partita la pefana! E' partita la pefano, ragazzi! Questo è partita la pefana arrivare! conti così la crenza va a andare a santo la pefana che se va è passata la pefana guardate sta arrivando la pefana è arrivata la pefana basta con le pefane vengono a casa la pefana vengono a casa la pefana vengono a casa vengono a casa vengono a casa si va qui sotto il palco per fare, qui sotto il palco per fare, qui qui sotto il palco, eccole, tutti i bambini, solo i bambini mi raccomando E con il palco per fare, qui sotto il palco per fare, qui sotto il palco, eccole, tutti i bambini mi raccomando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no E c'è la quinta tipica mare, piani e cammino la mistera, un bacco di felicità, si sa, si sa. Signori, ti ha preso le peccane, via, ai, coriandoli pure, si, si, buttali tutti, buttali tutti, coriandoli, dai. La lei, così, scelteva il palco, non si sale sul palco, non si sale, prendete la calzetta e via, coraggio, fate bravi, bravissimi, fate passare le persone, coraggio, piano piano. Ciao, ciao, pari a via, Laura, Laura, pari a piano, pari a piano, pari a piano, no. Signori, ci sono dei bambini che non vogliono, si vergogliono, signori, gli adulti che hanno preso la calzetta e vanno via, dai, abbiamo le pazienze. I bambini che sono rimasti dietro, fateli passare avanti, oggi è la festa dei bambini, dai, fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi, dai, tutto il palco di me, fate i bravi, dai, coraggio. Fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi. Allora, un attimo che arrivano le altre calzette, non ve ne andate, chi le ha presa, non vi a chi non le ha presa, resti, che arrivano le altre calzette. Dove stanno le altre calzette? Stanno arrivando le altre calzette, aspettate, eh? E, per fare, state tutte le accanto all'altra, Andrea, tu non sei il senso di palo, non vi dico. Allora, vicino che aspetta che arrivano le altre calzette, arrivano le altre, arrivano le altre. Un attimo che arrivano. Un attimo che arrivano. Allora, venite ragazze, fatemi vedere, ragazze, non potete fare che non siete altre, fatemi vedere. Brutte. È brutta, è bruttissima la goccia. Allora, ringraziamo, è arrivano le altre calzette, stanno prendendo l'opera, andate da qui. Salutiamo l'altefana Mietta, un applauso a Mietta. Va bene, salutiamo poi l'altefana Verviana, un applauso. Salutiamo l'altefana Alice, un altro applauso. E salutiamo l'altefana Silvia, un altro applauso. Quando salza la mattina, allora, attiva delle calzette. Le calzette dove stanno? Anche io, 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 io. Brutta che parla, esci da casa mia, se non la parla stiglia, tu ne la vai via. Quanti mariti, quanti corburi, dalle moglie abbandonati, quelli sono fortunati. La mia moglie è l'ultima e non me lascia, lei non me l'ultima. Le calzette dove stanno? Sono arrivate le calzette. Aspettiamo un'altra calzette che non arrivano, ma ci sono un artista. Ringraziamo. Ringraziamo nel frattempo gli amici della Proloco che ci sono fatti promotori del dono delle calzette. Ringraziamo l'associazione culturale Comitato Sant'Aronzo per tutte le iniziative di cui è stata promotrice in questi giorni da Tadizzi. Ringraziamo, sempre la Proloco, ringraziamo gli fulgolari che ci offriranno l'11 gennaio la recita del miracolo di Sant'Aronzo. Ringraziamo l'associazione Revere e gli Anziani Movimento per il preseverimento che stasera si chiude alle ore 19.15 circa, 19.30 con l'arrivo dei Re Maggi da Santa Lucia e la benedizione del bambinello. Ringraziamo la protezione civile per la loro presenza, il loro aiuto in questi giorni. E ringraziamo l'amministrazione comunale per la disponibilità e per tutte le iniziative di cui si è stata promotrice anche in questi giorni. Quindi, detto questo, ringraziamo il nostro Giuseppe che sta all'audio, Giuseppe Andrea. Ringraziamo soprattutto voi, perché senza di voi non si fa c'è niente, sono arrivato da quel padre. Non lo seguiamo. Mattia, c'è qui, Mattia, Mattia, Mattia Calvara sta qui. Mattia, Mattia, Mattia. Ma prova, ma sì. Mattia, 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 è qui, Mattia, Mattia. Mattia, Mattia, Mattia. Chi è rimasto senza calzetta? I bambini che non hanno avuto la calzetta, coraggio, avvicinatevi, tu che è a posto, ok? Giulia, la calzetta è presa? Eh, Giulietta, sì, è a posto. Ragazzi, la calzetta, auguri a tutti e auguri a voi per fare che non siete altre, che con ogni, che con osperi, ragazzi, adesso se volete si parla, eh? Pronti in Cisana, ragazzi, dovete fare il palco con noi, davanti! Pronti in Cisana Ecco! Grazie. 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 l'amore 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 Ora continuiamo, però con lo che, patrimonio il esteletro Izquierda, derecha, di nuovo iscriviti al nostro canale 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 iscriviti al nostro canale